Buonasera a tutti ragazzi, io sono Filippo Ferroni, sono incazzato nero, basta, basta, deve finire, Iachini deve andarsene, via, è uno schifo, anche stasera una partita schifosa, 0-0, ma una partita bruttissima, anche il Parma ha fatto schifo ragazzi, una partita orribile, ma io dico, ma te vai a giocare col Parma, sai già che parti svantaggiato perché c'è la situazione con Iachini, ma non puoi fare una partita così schifosa in questo modo, poi, ma avete rotto le palle anche voi che non sapete nemmeno giocare, perché stasera c'è gente che non deve giocare al calcio, perché anche Venuti non serve a nulla, Venuti Iachini non capisce che non è un regista, anche se stasera non ha fatto male come Castrovilli, Pulga l'ha giocato bene, difesa poco impegnata, Drongoski, relax stasera, niente di che, per quanto riguarda invece il resto, Biraghi, tanti cross, le unici due occasioni sono state il possibile rigore dove è stata Monitore Berì per simulazione, è l'ultima ora negli ultimi 40 secondi su quel cross di Lirola, ma così non si va da nessuna parte, è uno schifo, è uno schifo, c'è la Fiorentina, che con la squadra che ha, che si potrebbe permettere di puntare all'ottavo, settimo posto, dopo il pareggio di stasera Iachini, se ne deve andare, se ne deve andare, perché stasera abbiamo giocato peggio di altre partite, forse peggio pure di controllo Spezia, perché almeno controllo Spezia sarà fatto qualcosa, stasera nemmeno un tiro, a parte un tiro dove non è stato impegnato tantissimo sempre sul tiro di Biraghi, Pagel, Drongoski 6, non ha fatto nulla ovviamente, Casares 6, Igor 6 più, Milenkovic 6, poi Castroviglia, Mrabat, entrambi 6, poi Biraghi, bravo, 6 e mezzo, Venuti, 5, non serve a, non, ma è meglio Lirola a questo punto, che poi è subentrato, ma non è che ha fatto questa cosa, però la sufficienza se la prende, Cutrone, non dico più nulla, Quame, nulla, Riverini, l'unico, come sempre, migliore in campo, noi purtroppo dipendiamo da lui, senza di lui noi non siamo nulla, è uno schifo, Riverini stasera prende 7, ma è uno schifo, ricordatevelo, perché pareggiare contro il Parma, che si pensava che stasera faceva la partita della vita e faceva schifo, te non puoi pareggiare, te devi vincere, ma anche su un'autorete mi va bene, ma te devi vincere, non puoi pareggiare contro il Parma, ora noi siamo a 8, prebunti con lo Spezia, complimenti con lo Spezia, ne ho promossa, ma vai via, andatevene via, tra te, gli acchi, tutti, tutti, tutti fuori, tutti, tutti, poi è uno schifo, anche pensare che ci sia ancora gente in campo che non può giocare, non può giocare, Quame, Cusrone, non potete giocare il calcio, Blavic stasera non è entrato, ma anche lui non può giocare il calcio, è uno schifo, è uno schifo, la Fiorentina, Firenze, tutti noi meritiamo rispetto, da così, così non va bene, non ci va da nessuna parte, siete inde, non siete difendibili, perché è una vergogna, quindi io chiudo qui, ciao!